Indimenticato, indimenticabile, Monsignor Bernardo Antonini è una di quelle figure che rimangono impresse nella storia. Storia di persone semplici, quelle incontrate in Russia o in Kazakistan, o quelle di tanti giovani diventati preti grazie all'incontro proprio con lui, dal seminario di Verona a quello di San Pietroburgo. Monsignor Timashoff, un bel gruppo che è arrivato qui a ricordare un legame profondo con Verona, ma soprattutto Don Bernardo, perché ognuna di queste persone ha un ricordo particolare di Monsignor Bernardo Antonini. Sì, certamente, che da una parte è un'espressione del ricordo che porta in sé come tale tutta la chiesa nostra, piccola chiesa che è in Russia, ma poi ciascuno di questo nostro gruppo veramente ha il proprio rapporto molto profondo con Don Bernardo, un rapporto personale che è cominciato a volte con un rapporto istituzionale, cioè per me, per esempio, Don Bernardo è stato il rittore del seminario, ma non solo una figura istituzionale del rittore, e poi per ciascuno di noi credo che è diventato un padre spirituale, padre nel cammino della fede, e per questo è importante per noi proprio di venire qui. Il sogno di Don Bernardo Antonini si realizza agli inizi degli anni 90. La caduta del muro, la pre-restroica, gli aprono le porte della Russia. Da Mosca diventa centro di radiazione apostolica in tutte le repubbliche ex-sovietiche. Apre il seminario Regina Apostolorum a San Pietroburgo, l'Istituto Teologico Santo Maso d'Aquino a Mosca, Radio Maria, e fonda e dirige il giornale Svet Evangelia. La sua ultima missione, con lo sguardo rivolto alla Cina, dove sperava di arrivare, è a Karaganda, nel Kazakhstan. Come è cambiata la comunità, la chiesa cattolica in Russia? Dai primi giorni, anzitutto, direi che è cresciuta la chiesa, perché quando Don Bernardo è arrivato a Mosca, ma la chiesa era un po' troppo dire la chiesa, era una parrocchia e poi c'erano delle persone cattolici, ma non organizzate neanche abbastanza. Da quel momento, proprio negli anni quando Don Bernardo ha svolto il suo ministero in Russia, ha fatto moltissimo per far crescere la chiesa come la struttura visibile con delle persone formate da lui che adesso continuano ad essere la chiesa a Mosca, a San Pietroburgo, cioè in Russia.